un saluto da Ivan di Paco Digit oggi facciamo la conoscenza con il nuovo HTC One S telefono presentato di recente da HTC nella nuova maxi famiglia One telefono che si pone in una condizione intermedia tra il One X telefono dotato del processore quad core Tegra 3 di Nvidia e il più piccolo ed economico One V il One S a mio giudizio è un telefono molto interessante per moltissime moltissime ragioni ora vediamo di elencarli via via telefono molto ben costruito costruito quasi completamente in metallo un telefono unibody quindi che ha solo un paio di coperchietti di plastica uno solo dei quali si può smontare quindi molto ben assemblato privo di qualsiasi tipo scricchiolio veramente un bel telefono parte frontale con un display Super AMOLED da 4,3 pollici di diagonale veramente bellissimo nella riproduzione dei colori e nella sensibilità del touch nella parte superiore troviamo una videocamera frontale con risoluzione VGA quindi 640x480 e la nostra capsula auricolare anche piuttosto estesa dico subito che la capsula auricolare mi sembra funzionare piuttosto bene sia come qualità che come volume troveremo poi successivamente nella parte posteriore anche una griglia non tanto piccola dal quale escono i suoni di sistema e il viva voce che forse è ancora meglio nella riproduzione dei suoni veramente di buon livello. Nella parte bassa del display troviamo tre tasti a sfioramento con tasto home tasto di ritorno e il tasto del menu contestuale che ci permette di attivare le applicazioni recenti del nostro telefono quindi questo multitasking che ci permette anche semplicemente accompagnando le anteprime dei programmi che abbiamo usato le accompagniamo verso l'alto e vengono chiuse andando a liberare le risorse di sistema. Continuiamo un attimo a vedere il corpo del telefono nella parte destra abbiamo tasto del controllo del volume nella parte posteriore troviamo come dicevo prima questa grigliettina che ci permette di ascoltare i suoni di sistema e il viva voce veramente molto molto interessante la qualità nella parte superiore jack da 3,5 per le cuffie un piccolo incavo per aprire lo sportellino di plastica e il tasto di accensione sotto lo sportellino di plastica che stavamo vedendo troviamo un alloggiamento per una micro sim purtroppo il One S non è provvisto di uno slot di espansione della memoria integrata cosa che io non gradisco particolarmente. Fotocamera poi magari guardiamo successivamente anche un po' come funziona questa fotocamera una fotocamera da 8 megapixel che permette di girare anche video in full hd assistita anche da un piccolo flash led anticipo subito che la fotocamera è una delle cose che mi è piaciuta di più di questo telefono ciò è dovuto sicuramente a un buon software interno che la fa funzionare bene e anche a una lente particolarmente luminosa abbiamo un'apertura di 2.0 che quindi ci aiuta a lavorare anche in scarse condizioni di luce andando a vedere altre caratteristiche del telefono il cuore di questo HTC One S è il processore dual core di Qualcomm con clock da 1,5 GHz 1 GB di memoria RAM, scheda Adreno 225 16 GB di memoria integrata che come dicevo non possono essere ulteriormente espansi anticipando un po' alcune delle conclusioni finali devo dire che il processore di questo HTC fa muovere il sistema in maniera fulminia io trovo che funzioni veramente veramente molto bene sono sicuro che qualcuno dirà eh ma adesso ci sono in giro già i nuovi quad core sono molto più veloci io devo dire francamente ho avuto modo di provare alcuni di questi terminali con i quad core io trovo che la velocità di questo non abbia nulla nulla da invidiare a i quad core e forse il sistema è attualmente più ottimizzato per girare sui processori dual core c'è senza dubbio uno storico precedente ben più corposo questo telefono secondo me funziona veramente veramente molto bene interfaccia ci troviamo in presenza della Sense che io trovo sempre con grandissimo piacere un'interfaccia che a mio giudizio si rivela come una delle carte vincenti dei terminali HTC un'interfaccia molto intuitiva molto fluida molto bella graficamente naturalmente c'è la possibilità di cambiare widget, collegamenti, creare cartelle, cambiare i tasti di base ma soprattutto un'interfaccia che è diventata parte integrante del sistema operativo va ad innervarlo nelle sue funzioni principali e se si ha la possibilità di fare dei confronti con altri terminali che utilizzano versioni di android più pure se così possiamo chiamarli ci accorgiamo che la Sense è presente quasi ovunque cioè la personalizzazione di HTC su questo sistema è presente un po' ovunque e a mio giudizio lo aiuta quasi sempre a funzionare meglio in alcuni dei piccoli difetti che ancora possono esserci quindi ribadisco trovo con gran piacere ancora la Sense sui terminali di HTC andiamo a vedere un attimo il browser avevamo già aperto prima la home page di PacoDigit siamo sotto copertura di un operatore non sotto copertura Wi-Fi anche qui possiamo vedere alcune delle novità di Android 4.0 browser che può essere preimpostato in maniera permanente in modalità desktop quindi ci presenteremo alla rete come se fossimo un computer non come se fossimo un terminale mobile possibilità di lasciare sempre attivato anche il flash player devo dire che il browser mi ha fornito le consuete conferme un browser straordinariamente veloce straordinariamente rapido nella formatazione della pagina nel proporre la pagina che abbiamo richiesto alla rete direi assolutamente privo di impuntamenti veramente un bel browser qualche giorno fa c'è stato qualche motivo di discussione paragonandolo per esempio all'HTC One X che ogni tanto ha qualche impuntamento durante la navigazione internet ho avuto modo di provare anche quello brevemente mi sembra che le differenze siano un po' poche e come si è visti in giro forse dipendono un po' da una non ancora perfetta integrazione del sistema operativo con il processore quad core di quel terminale in questo caso io promuovo a piedi vuoti il browser a me piace tantissimo funziona veramente molto bene parte telefonica che prevede la classica grafica di HTC con una ricerca intelligente molto ben funzionante a mio giudizio la migliore che ci sia in giro per la ricerca dei contatti per quanto mi riguarda trovo sempre il contatto che stavo cercando tramite la ricerca intelligente di HTC di notevole livello anche tutto il reparto telefonico sia nella ricetrasmissione del segnale che come dicevo prima nella qualità della capsula auricolare e del vivo a voce andando a vedere un attimo l'elenco delle applicazioni caricate sul telefono non troviamo grossissime novità abbiamo tutti quei programmi che vengono caricati nativamente sul sistema operativo Android da Google con qui qualche modifica grafica nel layout modifica grafica abbastanza tipica di Android 4.0 abbiamo il tasto cerca, l'accesso diretto al Play Store e questo menu contestuale che ci permette di gestire un pochino le nostre applicazioni aggiunta di HTC invece la possibilità di visualizzare tutti i software insieme quelli utilizzati più frequenti o quelli che abbiamo scaricato di recente questa è una piccola personalizzazione che come dicevo prima fa parte un po' dell'interfaccia Sense andiamo un attimo a vedere come dicevo prima brevemente il funzionamento della fotocamera ci sarà sufficiente tenere premuto in maniera continuativa il tasto di scatto per ottenere questo risultato questa nuova famiglia di terminali di HTC della famiglia One hanno una particolare attenzione al reparto della fotocamera come dicevo prima un'ottica piuttosto luminosa 2.0 molto interessante questo software integrato che permette lo scatto in raffica delle immagini la possibilità di scattare in sequenza ci aiuta naturalmente ad immortalare dei momenti che probabilmente scattando una singola immagine a mano libera non riusciremmo a fermare mi riferisco per esempio a degli avvenimenti sportivi o come capita sottoscritto con una certa frequenza la possibilità di fare delle belle foto ai propri bambini perché i bambini non stanno mai fermi e lo scatto in raffica ci aiuta a cogliere delle situazioni più carine di altre trovo che sia una funzione molto interessante di questo telefono possiamo scegliere poi quale scatto o quali scatti trattenere e quali eventualmente eliminare altra cosa che trovo molto interessante della foto videocamera è la possibilità di scattare immagini fisse mentre stiamo registrando i nostri video quindi come dicevo prima già i video sono in full HD con 30 frame al secondo è interessante questa cosa che ci comparirà sempre sia il tasto di registrazione video che il tasto di scatto della fotocamera potremmo anche scattare delle immagini durante il video facciamo un po' il riassunto di questo HTC One S un telefono che probabilmente si è capito mi piace molto molto piccolo meno di 8 mm lo spessore leggero siamo intorno ai 120 grammi quindi molto gradevole da trasportare un bellissimo display Super AMOLED come dicevo se devo andare a cercare qualche difetto nel display lo troverei nella sua forma trovo che il rettangolo del display sia un pochino troppo schiacciato ciò è dovuto alla risoluzione 960x540 che lo rende un pochino troppo allungato è sufficientemente alto ma forse un pochino stretto diciamo che un po' andrà a cercare la pagliuzza come si dice però ci sono alcune risoluzioni che lo rendono forse un po' più proporzionato che cos'altro dire delle cose che non mi piacciono ho già accennato prima che non mi piace l'impossibilità di espandere la memoria di avere solo 16 giga di memoria integrati non è un fatto di quantità ma è la possibilità di trasportare più facilmente dei propri dati personali su delle schedine direi che comunque è un telefono che si può a mio giudizio promuovere a pieni voti mi è piaciuto veramente veramente molto ringrazio la Stockhouse di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione questo esemplare per la prova e vi rimando alle prossime recensioni un saluto da Ivan